Bocchetti, finalmente una vittoria, direi una vittoria più che meritata del Pescara, una vittoria del gruppo, della squadra. Sì, una vittoria meritata contro una grande squadra, una squadra in salute, perché Pisa era una squadra in salute, una squadra che aveva fatto tanti punti nelle ultime gare. Siamo stati bravi, soprattutto l'allenatore e il mister sono stati veramente bravi, perché hanno preparato la partita le ultime ore della rifinitura, perché abbiamo avuto un problema con Drudi, quindi ha dovuto cambiare modulo e diciamo che sono stati veramente bravi. Cosa è cambiato da Vicenza? Perché Bocchetti aveva detto al 91esimo, squadra che quasi non è scesa in campo, così non va bene, non è questo il modo di giocare le partite. Se passano dieci giorni c'è la sosta e oggi col Pisa abbiamo visto in campo un'altra squadra. Ma sono sempre le approcci delle partite, noi sbagliamo sempre l'approccio della partita, sia con il Vicenza, sia con l'Ascoli che con il Pordenone. Abbiamo sempre questi primi 10-15 minuti che non entriamo in partita, invece oggi si è visto dall'inizio che la squadra ha fatto sicuramente meglio. L'inerzia della partita la sposti verso di te, quindi era tutto un pochettino più semplice. Direi sugli scudi oggi Odgaard, ma poi spenderei due parole su quei calciatori che sono stati spesso criticati a Pescara, direi anche giustamente alla luce delle prestazioni offerte in questa stagione. Mi riferisco a Macin, a Galano e a Capone. Oggi questi giocatori hanno fatto la differenza in positivo per il Pescara? Sì, hanno fatto soprattutto una fase difensiva importante. I due esterni si sono sacrificati tanto, quindi se si parte da una base di non possesso palla e si fa bene in non possesso palla, loro le qualità per fare qualcosa in più in attacco ce l'hanno, quindi entrano più in partita loro e fanno aumentare la qualità della squadra. Quattro punti dalla zona play-out, si torna a sperare concretamente, almeno proprio sull'aggancio al quarto-ultimo posto. Ora ci sono queste due trasferte, tutt'altro che agevoli, però quest'oggi si è vista una squadra diversa. L'augurio che possa essere così anche nelle prossime gare, soprattutto l'approccio, la cattiveria e quello che oggi i ragazzi hanno messo in campo. L'emblema, il gol di rabbia segnato da Macin, per esempio. Sì, bisogna trasportare tutto quello che abbiamo fatto oggi nelle prossime partite che andiamo a affrontare. Monza e Brescia che sono due squadre importanti, però anche noi siamo una squadra importante, dobbiamo crederci e portare qualcosa in più perché affrontiamo due signore squadre. Resta questo fardello, bocchetti dei tanti infortunati. Oggi sette assenti, probabilmente per Monza non potrà essere recuperato nessuno, forse gut per la panchina al limite. Insomma, questo è un problema perché la squadra in difesa soprattutto è contata. Siamo contanti, siamo in emergenza, in fase difensiva, però ormai ci siamo, quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa in più, sperando che non ci siano altri problemi, però purtroppo questa è la situazione. Abbiamo tre centrali di ruolo fuori e per fortuna che in queste settimane è arrivato pure Volta, sperando che gut in settimana possiamo mettere dentro, quindi recupereremo altri due giocatori per noi importantissimi, a livello anche numerico. Però se la situazione è questa bisogna affrontarla e cercare di fare il meglio possibile. Quella di oggi è stata una gara giocata con grande addor della squadra. Possiamo dire che c'è stata anche una risposta all'ambiente da parte dei giocatori. Ieri era stato esposto uno stricione polemico, critico nei confronti della società, ma anche della squadra. I tifosi si attendevano una prestazione all'altezza della squadra e questa prestazione è arrivata. Sì, ma è normale criticare, anzi, sono stati anche molto buoni, molto educati, ci danno sempre sostegno. È normale che quando le cose vanno male la squadra, la società, viene criticata, ma è giusto che sia così. Sì, siamo nelle zone basse della classifica e ci aspettiamo degli applausi. È normale che ci sia un piccolo disappunto nei nostri riguardi. Però la squadra la dobbiamo isolare il più possibile per cercare di portare un po' di positività. Oggi c'è stata e quindi dobbiamo portare questo nelle partite che andiamo a affrontare. Bonza e Brescia, quanti punti si aspetta Bocchetti da queste due trasferte? È normale che più punti possibili perché noi abbiamo veramente bisogno di punti. Sarebbe perfetto portare tanti punti, però sappiamo, ci dobbiamo credere, però sappiamo che affrontiamo due squadre forti. Quindi quello che abbiamo fatto fino adesso non basta, ma bisogna mettere qualcosa in più. L'ultima sulla gara proprio con il Monza. Monza che ha fuori diversi giocatori. Ci sono diversi indisponibili nella formazione bianco-rossa, però quella del Monza è una formazione di rilieo. Che il Monza ha tre squadre, non ha due, quindi è una rosa di assoluto livello. Quindi manca uno, mette un altro, non è questo il problema. E come vai tu in campo, quello bisogna essere importante. Grazie, grazie ad Antonio Bocchetti. Auguri. Salve. Salve.